oggi ci occupiamo della manutenzione di uno degli organi più importanti per il nostro camper e per la vita in camper ok costo molto molto basso i tempi molto molto bassi 10 barra 15 minuti vedetevi il video caperisti buongiorno buongiorno a tutti voi come andiamo qua perfettamente come vedete alle mie spalle ovviamente nel mezzo ci sono sempre lavoro in corso anche perché tra un po andiamo in ferie quindi bisogna stringere i tempi e finire di fare le ultime cose ovviamente prima di iniziare volevo dare benvenuti nuovi iscritti ringraziarvi per essere iscritti sperando che questo canale vi possa mantenere il vostro possa farvi mantenere il vostro mezzo perfettamente funzionante di che cosa parliamo oggi come avevo detto nella intro parliamo di manutenzione di che cosa di che manutenzione parliamo parliamo della manutenzione di una parte del nostro camper molto ma molto importante e qual è il pannello solare non sto a dire che cos'è il pannello solare perché se guardate questo canale probabilmente sapete di che cosa si sta parlando ma il pannello solare è quello che ci permette di utilizzare le utenze del nostro camper anche se non siamo collegati alle 220 quindi la pompa dell'acqua piuttosto che le prese per ricaricare i telefoni la luce e quant'altro o meglio tutto quello che è presente all'interno della cellula abitativa del camper ovviamente il pannello un impianto di pannello fotovoltaico è composto da fondamentalmente da tre elementi importanti il pannello appunto il regolatore di tensione e la batteria per quanto riguarda la manutenzione alla batteria non c'è una manutenzione della batteria o meglio ci sarebbe ma semplicemente bisogna stare attenti ai sovraccarichi della batteria e soprattutto tenere la batteria sempre sotto controllo per evitare che questa possa subire danneggiamenti in fase di eccessivo scarico in fase o in fase di eccessivo carico per quanto riguarda il regolatore di tensione è semplicemente una sorta di appunto regolatore di tensione che regola la tensione proveniente dal pannello e la trasferisce alla batteria quindi manutenzione in tutta onestà non ce n'è da fare sono quella di tenere controllo sotto controllo il regolare funzionamento e qualora questo non dovesse funzionare regolarmente sostituirlo e il pannello solare per quanto riguarda il pannello solare che è quello di cui parleremo oggi la manutenzione più semplice da fare ed è anche quella più utile quella della pulizia regolare del pannello solare consiglio la pulizia una barra due volte l'anno ovviamente non è che dobbiamo stare tutti i giorni sul tetto a pulire il pannello anche perché non ci almeno per quanto mi riguarda non avrei nemmeno il tempo per farlo ma soprattutto è un'operazione non dico inutile ma insomma anche superflua l'importante che questa operazione viene fatta una barra due volte l'anno o comunque quando saliamo sul tetto a controllare cose nostre che ne so l'oblò piuttosto che la situazione della pulizia del tetto come avete visto il mio tetto è sporco da fa schifo infatti quella è un'operazione che dovrò fare prima di partire controlliamo anche come composto come in che condizioni il nostro il nostro il nostro pannello e agiamo di conseguenza come si fa la pulizia di un pannello fotovoltaico semplicissima nulla di che lavoro che si può fare in circa 10 barra 15 minuti ad un costo molto molto basso il prodotto che ho utilizzato io è un prodotto che si trova facilmente in commercio o meglio io l'ho trovato da tecrovat ma credo che anche tipo l'eroa merlaine piuttosto che brico center o i brico in generale hanno questo tipo di detergenti ora ve lo faccio vedere ok e questo qui è un prodotto costo 5 euro e 50 ed è un pulitore specifico per pannelli fotovoltaici ok quindi non andate ad utilizzare detersivo per piatti piuttosto che lo sgrassatore per l'amor di dio 5 euro e 50 è un costo che possiamo tranquillamente sostenere e andiamo ad utilizzare un prodotto specifico per il lavoro che dobbiamo fare ok ovviamente la quantità per quanto mi riguarda è anche superfluo si sta parlando di un litro però magari uno e i pannelli fotovoltaici in casa lo potete anche per quello o magari uno a due tre quattro cinque sei pannelli sul campo questo prodotto gli basta gli avanza per quanto mi riguarda io ho un piccolo pannellino da 60 watt quindi con questo ci posso fare altri dieci anni tranquillamente quindi non scade è un prodotto credo a base alcalina se non ho letto male ed è pronto all'uso una cosa forte tra virgolette che è pronto all'uso quindi di conseguenza non c'è bisogno di diluizioni strane o alchimie strane semplicemente viene spruzzato direttamente sul pannello fotovoltaico e abbiamo tra virgolette l'azione l'azione del prodotto immediato ok basta cos'altro serve serve dell'acqua ovviamente io consiglio di utilizzare dell'acqua corrente quindi con una semplice sistolo cannella dell'acqua io in questo caso avendo il camper nel parcheggio non posso utilizzare acqua corrente anche perché il rubinetto del bagno non arriva fino al tetto quindi utilizzerò un semplice erogatore dell'acqua uno spruzzatore magari chi come me non ha possibilità di utilizzare acqua corrente può fare due tre barra quattro passaggi con acqua per eliminare tutto il detersivo in eccesso basta andiamo sul tetto situazione del nostro pannello è questa qui sembra pulito ma in realtà vi posso garantire che non è il vantaggio quale di stamattina che c'è un po di rugiada e quindi diciamo il grosso è già è stata ammorbidito dello sporco ok quindi ora che cosa facciamo approfittando del fatto che già umido andiamo a spruzzare sopra la soluzione del detersivo pulente lo lasciamo agire per cinque minuti ok e poi proviamo a pulire vedere come viene fuori considerate che il prodotto come vi ho già detto è già pronto all'uso quindi non va dolito non va affatto nulla va semplicemente spruzzato sul pannello e lasciato a giro ok andiamo avanti allora ora ve lo faccio vedere allora questo è il prodotto che lo spruzziamo sopra su tutta la superficie ora vi faccio vedere un piccolo angolo perché insomma stare in bilico con la scala e con la telecamera in mano diventa insomma un po vedete spruzzate o non abbondate cioè nel senso non lesinate tanto comunque va va sempre risciacquato lo spruzziamo su tutto il pannello considerate che il pannello era più o meno come questo qui quindi molto molto ma parecchio l'ercio che quindi spruzziamo il prodotto e lasciamo agire per cinque mi bene vedete ha agito per cinque cinque minuti non so se riuscite a vedere guardate qui quanto sport si è spostato insomma qualcosina qualcosina ha fatto allora poi che cosa facciamo facciamo che con un pennello ovviamente pulito andiamo ad agire delicatamente nel senso circolare per eliminare tutte quelle che sono le incrostazioni più più dure da eliminare quelle che un po insomma il prodotto vedete questi qui negli angoli capito tutto per benino vedete quanto sport che si è accumulato negli angoli e questo punti in questi punti ovviamente il detergente se non frizionato non funziona bene ok quindi facciamo tutta tutta la superficie del pannello che fino in fondo delicatamente senza forzare troppo con un pennellino nuovo mi raccomando e proseguiamo così finché non riusciamo a muovere nell'angolo e negli angoli soprattutto vedete qui e qui tutto quell'ero che si è depositato che sporcizza insomma smog resine varie dovute agli alberi ok questo è su tutto il pannello andiamo avanti dai allora dopo aver frizionato per bene grattato chiamatelo come vi pare tutto il pannello con il pennellino vedete insomma anche soltanto il colore del del detergente capite bene che insomma si vede molto bene come era sporco cosa facciamo andiamo a risciacquare ora il risciacquo io sinceramente consiglio di farlo con un po di acqua corrente lì e cioè non forte non con la lancia ma semplicemente con una cannella dell'acqua e buttare su un po d'acqua sinceramente al momento non ho disponibilità per poter sciacquare come come vi ho detto però posso utilizzare questa questo metodo qui c'è lo spruzzino ok spruzzo l'acqua addossa tutto il pannello asciugo rifaccio due tre passaggi di acqua per eliminare tutto quello che il detersivo restante e poi sono a posto faccio asciugare il lavoro e e belle che finita ok guardate che lavorino guardate come luccica tutto pulito per qualcuno potrà sembrare uguale a prima ma vi garantisco che non lo è guardate com'è bello pulito ok anche gli angoli vedete lì nell'angolo vi ricordate guardate come pulito ovviamente se si presenta ancora un po di sporco potete fare un altro ripasso ok sempre lo stesso metodo ok spruzzate il prodotto lasciate girare per qualche minuto e poi risciacquate ok mi raccomando il risciacquo deve essere abbondante e fatto in più riprese perché in modo tale che la superficie deve risultare priva di detersivo vedete è asciutta non c'è acqua ok casomai aiutatevi con della carta con dello scottex per asciugare e con della panna microfibra questa qua la trovate tranquillamente anche dei cinesi o da tecno ma insomma prodotto da un euro e 50 quindi insomma molto molto economico guardate la è sicuramente un pannello tenuto in ordine un pannello che garantisce più che inizia a far caldo e allora come avete visto lavoro di una semplicità disarmante alcuni piccoli consigli come ho detto il prodotto lo trovate brico man tecno mattler oa merliene quindi questi centri di bricolaggio che fai da te casomai se non lo uscite a trovare questa è la marca ok la potete trovare su internet o insomma comunque un qualsiasi prodotto specifico per la pulizia dei pannelli fotovoltaici ok mi raccomando un altro consiglio mi raccomando questo lavoro facciamolo quando il pannello non è a diretto contatto con il raggio del sole quindi quando non c'è il sole a picco pieno sopra perché perché il pannello in quella fase tende un po a riscaldarsi magari possiamo avere una reazione strana o non è non abbastanza efficace oppure troppo efficace del detergente quindi vi consiglio come avete visto all'ombra io ero un po borderline perché il sole lo stava colpendo levemente però sono le ore 8 del mattino quindi il sole non è ancora forte abbastanza debole quindi ho fatto una cosa abbastanza veloce per evitare appunto che non ci arrivasse il sole a tutto a tutto fuoco sopra quindi non lo fate a mezzogiorno ovviamente fatelo sul tardi della sera o comunque sul presto della mattina un altro consiglio che vi posso dare che purtroppo durante le operazioni di pulizia non vi ho detto cercate di utilizzare acqua distillata perché ora nella bottiglia avevo messo l'acqua distillata per non portare il bidoncino da 5 litri che insomma è abbastanza scomodo perché perché ovviamente utilizzando acqua distillata non c'è presenza di calcare piuttosto soprattutto calcare e quindi di conseguenza che cosa che cosa avviene avviene che utilizzando l'acqua distillata non andiamo a spruzzare sul pannello dell'acqua con del calcare e quindi di conseguenza non facciamo l'effetto contrato cioè quello di pulire il pannello andiamo spruzzando acqua non distillata andiamo a spruzzare acqua che può contenere il calcare e quindi andiamo a macchiare il nostro pannello quindi il mio consiglio se potete utilizzare acqua distillata o comunque si può tranquillamente comprare in commercio un bidoncino da 5 litri di acqua distillata a costo un euro forse nemmeno quindi costi molto molto bassi ripeto io cerco di fare tutte queste operazioni tenendo in considerazione l'abbattimento dei costi al massimo cioè utilizzando prodotti che troviamo facilmente in commercio ma soprattutto siccome i furbacchioni che ce ne sono tanti in giro utilizzate prodotti analoghi a quelle per camper cioè sicuramente ci saranno dei pulitori per pannelli fotovoltaici domestici come questo ma ci saranno sicuramente dei prodotti per la pulizia dei pannelli fotovoltaici per il camper e vi garantisco che secondo me io non l'ho visto ma secondo me costano il 20 30 per cento in più soltanto perché c'è scritto camper sopra quindi utilizzate prodotti che sono tranquillamente in commercio che sono facilmente le verebili commercio ma soprattutto andate ad analizzare i costi dello stesso prodotto specifico per camper o generico per uso domestico in modo tale che anche in questo modo cerchiamo un po di abbattere i costi ok poi pennellino se non ce l'hai lo vai a comprare se ce l'hai in casa lo utilizzo importante che non avete sgrassato la marmitta o avete pulito le gomme della macchina perché se no andate a sporcare quindi cercate di utilizzare i prodotti il pennellino pulito piuttosto che il panno di microfibra pulito quindi sono tutti cioè alla fine della fiera io per fare questo tipo di operazione ho speso 8 euro nemmeno quindi insomma capite bene che si sta parlando di costi proprio irrisori benissimo signori questo video è giunto al termine spero che i miei consigli spero che questo video vi possa aiutare a mantenere il vostro mezzo perfettamente funzionante mi raccomando mi raccomando mi raccomando cercate di tenere il vostro mezzo nelle migliori condizioni in modo tale che per qualsiasi momento in qualsiasi vacanza in qualsiasi condizione il vostro mezzo ve ne renderà merito e non vi lascerà per strada ok signori come al solito volevo ringraziarvi di nuovo per l'escrizione e ringraziarvi di nuovo per le visualizzazioni davvero davvero grazie te che hai visto questo video e che sicuramente hai tratto ispiramento ispiramento ispirazione ispirazione per la manutenzione del tuo mezzo clicca qua sotto iscriviti che secondo me c'è anche qualche altro video che ti può far comodo ok signori sono le ore 9 vado a fare colazione ci vediamo al prossimo video ciao